Niente, ma le pare che metteremo in gioco la nostra organizzazione solo per scoprire gli scandali del suo partito, gli scandali della DC, li conoscono tutti. Ma allora, credo di non aver compreso cosa vi ripromettiate dal mio interrogatorio. Dalla sua prigionia, vuol dire? Che per la precisione è uno degli obiettivi della campagna di primavera. Sono previste almeno una quarantina di azioni. Vuol dire che ci sono altri casi come questo che mi riguarda? Anche. Altri sequestrati? Prigionieri, presidente. Per noi voi siete prigionieri politici. A noi interessa ciò che può scatenare la campagna di primavera nell'area rivoluzionaria. A noi interessano le trame che lei ci può svelare della controrivoluzione, che è in atto per adeguare l'Italia all'imperialismo delle multinazionali, al SIM. SIM? Mi scusi, vorrei chiarire meglio il suo pensiero. S-I-M. Stato imperialista delle multinazionali. Il supergoverno che stabilisce ferree linee politiche e di sviluppo sociale per ogni paese occidentale, contro la classe operaia. Per l'Italia è il suo partito che deve far rispettare queste linee. E lei, come massimo esponente della DC, ne è l'esecutore? Esecutore? Io. E da chi, mi scusi, prenderei le direttive? Dalle centrali. CIA, Trilateral, Pentagono, Bonn, Washington. Washington? Washington, per la verità, non sono mai stato visto di buon occhio. Lei che vuole sapere i segreti. Da lì ho ricevuto perfino una minaccia esplicita. Di morte? Da chi? Ah, per la sua apertura a sinistra, forse. Ma diciamo che quella non era la sola spina nel fianco degli americani. In quel momento pungeva di più il nuovo orientamento filo-arabo da me avviato. Sebbene membri della Nato, noi rifiutammo di dare delle basi agli americani per i rifornimenti ad Israele. Ci fu un piccolo rischio di frizione, ma poi... Però poi nel 72 le basi gliel'avete date, no? In Sardegna. Quelle non servivano ad Israele. Si trattava di semplici approdi. Si tratta, presidente, si tratta. Perché sono ancora lì e continuano ad aumentare. Continua a trattarsi di semplici approdi per sommergibili a propulsione nucleare. Ah, una cosuccia da niente. È per questo che non avete informato il Parlamento, lei e il suo socio Andreotti. Quella concessione non è mai stata ratificata dal Parlamento, no? Non è vero, presidente? No, non adesso, non adesso. Dai, non adesso. Dai del brodo caldo, me l'avete fatto fare. Riprendiamo dopo. Paradossalmente.